Ciao a tutti, Deo i benedica, siate benvenuti a questa terza parte, questo primo episodio che abbiamo fatto con il nostro pastore e questa nuova sezione che abbiamo sul nostro canale YouTube, una chiacchierata con il mio pastore e oggi abbiamo con noi il nostro pastore. Pastore! Eccomi qua, ciao a tutti, è un piacere essere qua insieme a te e insieme a voi. Grazie perché tu sei qua con noi ascoltandoci. Quindi sono passati circa tre anni dal momento in cui sei stato consacrato come pastore per collaborare con un altro pastore quindi in questo periodo qua di tre anni, quali sono stati gli insegnamenti, le cose che hai imparato, cosa hai visto di nuovo o comunque eri già così dentro la presenza del Signore, eri già così dentro anche la Chiesa che era più o meno lo stesso o hai imparato nuove cose in questo periodo qua? Sei stato più vicino alle persone? Sono stato molto più vicino al pastore Polino all'epoca, quindi gli ultimi due o tre anni sono stato molto più vicino quindi ho visto un po' di più come lui risolveva le cose o come lui gestiva diciamo la Chiesa però più di una volta ho detto questo, tra essere un collaboratore e essere il titolare, il responsabile è molto diverso, davvero molto diverso. Io lo vedevo però non sentivo perché io ti posso fare vedere una cosa o io posso dirti guarda diciamo che tu non hai mai mangiato l'anguria Io ti posso dire com'è mangiare l'anguria, che gusto ha, posso dire guarda è dolce, c'è un po' d'acqua dentro c'è questa sensazione qua di mangiare un qualcosa leggero però affinché tu non proverai non potrai diciamo sapere davvero quali sono le persone perché essere un pastore responsabile è preoccupare con tantissimi settori, con tantissime aree tantissime persone tutta la giornata pensare a uno, pensare all'altro, pensare a pagare l'affitto del locale pensare al futuro della tua famiglia, pensare alla tua famiglia, pensare alla famiglia degli altri i fratelli che non stanno lavorando, i fratelli che devono crescere, che vogliono crescere i fratelli che vogliono essere discipolati, la predica del culto A, culto B i gruppi dentro la chiesa, i gruppi che ci sono dentro la chiesa stanno svolgendo bene ciò che devono svolgere ossia ci sono tantissimi dettagli che uno bisogna pensare tutta la giornata e in più la pressione spirituale perché ovviamente se Satana riesce ad abbattere il responsabile, ossia il pastore le pecore rimangono come una pecora senza pastore anche Gesù ha citato questo, no? se la pecora, diciamo, non ha un pastore quindi sarà un danno per il gregge e quindi Satana sicuramente non piace quando un pastore sta bene ok, possiamo paragonare l'essere un pastore collaboratore ovviamente tenendo le distanze però è come un ragazzo che lavora ma abita ancora con i genitori e poi quando diventi pastore responsabile della chiesa è come un ragazzo che già va ad abitare fuori quindi si trova con le bollette, con l'affitto da pagare con la spesa da fare, con i piatti da lavare con la spazzatura da portare giù che magari quando abiti ancora con i tuoi genitori tu dici, no, io sono già indipendente perché sto lavorando però comunque c'è la mamma che ti fa il letto c'è la mamma che ti fa la colazione la responsabilità cambia quindi cambia completamente è come qualcuno che guida l'auto tu puoi essere in auto, diciamo che siamo in auto 5 persone c'è uno guidando e quindi chi è accanto è lì tranquillo e dice no, a me la girare a destra, a me la girare a sinistra no, fai questo, fai l'altro però quando questo qua passaggero quando questo collaboratore qua sarà messo per guidare l'auto vedrà il quanto di responsabilità c'è nel controllare ogni specchietto e nel controllare ogni cosa quindi la responsabilità aumenta molto e qual è stata la prima cosa che ti ha colpito o le prime cose che ti hanno colpito al momento in cui hai preso la chiesa come pastore responsabile perché lì sei rimasto da solo con la tua famiglia eri comunque ancora giovane, 30 anni se non ricordo male se non sbaglio quindi ancora un ragazzo quindi tanto da imparare nella vita e tanto da imparare come pastore quindi quali sono state le prime cose che ti hanno colpito che hai detto caspita, non avrei mai pensato che potesse succedere questo ok, allora penso più che altro la pressione che era molta perché avevamo qualche debito da pagare qualche affitto in ritardo quindi ero molto preoccupato con questi affitti qua che erano in ritardo quindi c'era questa pressione qua di pagare i debiti che avevamo però come ho detto anche nel periodo che parlavo qua di 2008 e qua inizia un altro momento un altro periodo di miracoli che Dio faceva perché era il secondo mese che ero già pastore ho raccontato queste esperienze sicuramente tante altre volte anche qua in chiesa e mi ricordo che una coppia due persone giovani ci hanno trovati su internet hanno attraversato la città sono venuti all'inizio del culto ci hanno lasciato una busta con 2000 euro e hanno detto guarda noi abbiamo sentito da parte di Dio di consegnare questa offerta a qualcuno non sapevamo a chi abbiamo fatto una ricerca su internet e vi abbiamo trovati e siamo venuti qua e così hanno lasciato la decima non era la decima era un'offerta e hanno detto noi non possiamo rimanere al culto dobbiamo andare erano come dei angeli un'esperienza che il Signore mi ha dato sono venuti hanno lasciato i soldi e sono andati via mai più li ho visti bene qua sei già pastore sei pastore responsabile hai una famiglia hai la famiglia che è la chiesa e poi a un certo punto arriva arriva Flames ok arriva Flames e Flames Church la chiesa infuocata se possiamo tradurla in qualche in qualche maniera si e Flames Church è dove tu avrai la tua esperienza con Dio sì questo è il nostro motto questo è il nostro motto questo è il motto della chiesa perché Wesley quando si è convertito ha avuto questa esperienza con Dio quindi nel suo cuore c'è il desiderio che tutti possano avere questa esperienza sì sì è corretto sì sì ogni chiesa avrà diciamo il suo motto avrà ogni pastore sicuramente ha la sua esperienza personale con il Signore quindi chissà qualcuno ha tirato verso un'altra aria no e io sono tirato molto ad trasmettere questa fiamma dello Spirito Santo di Dio che si trova in me quindi il mio proposito di vita è questo trasmettere alla nazione italiana questa fiamma di Dio che è nel mio cuore quindi il raccontiamo un po' beh l'hai già più o meno detto ma qual è il desiderio nel cuore di Wesley cosa ha messo Dio nel cuore di Wesley per fare con Flames con questa comunità qua in Italia qual è il desiderio qual è il percorso che vorrebbe fare questa congregazione qua in questo territorio ok allora il nostro obiettivo il nostro grande desiderio è che persone possano conoscere Gesù ma non un Gesù umano un Gesù affisso sulla croce non Gesù perché tanti riconoscono che Gesù è stato qua sulla terra come un profeta e così via invece il mio desiderio è che le persone possano avere un'esperienza con Gesù non che Gesù è stato qua sulla terra ma che Gesù è qua Gesù è qua tra di noi Gesù è vivente l'unico che morì e risuscitò se lui risuscitò se lui risuscitò significa che lui è vivente è tra di noi e quindi io posso avere un rapporto con lui un'esperienza con lui e quindi come dico sempre tanti hanno avuto una sensazione buona di andare in chiesa e trovare bene una comunità una chiesa ma io non desiderio questo per le persone che arrivano qua e si sentono bene soltanto io voglio che le persone arrivano qua si sentono bene e che abbiano un'esperienza con Dio perché sennò diventa una cosa religiosa diventa una religiosità che io vado ad un posto carino e torno a casa vado ad un posto carino e torno a casa quindi ciò che io mi sento spinto dallo Spirito Santo è trasmettere alle persone questa opportunità di avere una intimità un'esperienza con Dio ciò che dico sempre quando uno ha un'esperienza con Dio non servirà a Dio perché i pastori vuole perché i genitori vogliono perché qualcuno sta spingendo ma perché ha avuto l'esperienza e quindi farà di tutto per gradire il Signore gradire questo Dio che sta servendo cosa rappresenta Dio per te? wow cosa rappresenta Dio per me senza di Lui non lo so non trovo senso nella vita senza vivere per Lui se non è vivere per Lui non trovo senso nella vita anche perché la Bibbia ci insegna che quando Adam e Eva peccarono contro Dio loro sono morti loro morirono ossia Adam morì anche se respirava ma era morto infatti questa era la parola di Dio Adam nel giorno in cui tu tu peccherai tu sarai disobbedient a me tu morirai lui continua respirando ma era morto e quindi credo che l'uomo senza Dio è un uomo morto non è stante sta respirando sta camminando ma sta camminando come dei zombie sta camminando come uno senza vita l'unico modo di avere di nuovo questa vita che Adam ha perso è collegandosi o ricollegandosi in Gesù infatti la Bibbia ci insegna che quando lo Spirito Santo viene a abitare nell'essere umano nell'essere umano dell'essere umano diventa uno con lo Spirito dell'uomo quindi pensate com'è se lo Spirito Santo lo Spirito Dio lo Spirito che risuscitò a Cristo Gesù abita in te tocca nel tuo spirito tu ricevi vita pensi com'è Dio collegandosi nel tuo spirito quanta vita uno avrà e quindi cosa rappresenta Dio per me? è la vita senza di lui non c'è vita c'è una storia che mi piace che racconta di un uomo che ha detto che quando lui sarebbe morto avrebbe voluto mettere nella sua lapide mi sembra che si chiama lui morì mentre era vivo perché lui diceva questo che ci sono molte persone appunto che respirano e camminano sulla terra però senza un motivo senza un motivo di essere e quindi lui ha detto io vorrei che ci sia scritto lui morì mentre era vivo e vale la pena vivere per Dio quindi se noi viviamo per Dio vale la pena e quindi siamo vivi e quando moriamo passiamo alla morte fisica poi andiamo comunque in una vita eterna eterna quindi Dio rappresenta per te questo molto rappresenta per me vita lui lui ci dà la vita lui ci dà il proposito di vita lui ci dà la luce infatti Gesù ha detto chi mi segue non cammina nelle tenebre ma ha la luce della vita quindi quando noi stiamo servendo Dio servendo Gesù noi abbiamo la luce sappiamo di dove siamo venuti e sappiamo dove noi stiamo andando abbiamo la luce per vedere il proposito di vita che noi abbiamo su questa terra e il tuo proposito di vita su questa terra qual è? servire Dio e servire le persone servire Dio e servire le persone sempre come hai fatto dall'inizio e come stai facendo ora e come pensi di fare sempre e questo credo e ora ragionando quasi del momento in cui sono stato ricollegato con Dio perché dal momento in cui io dichiaro la mia conversione al Signore Gesù che io ho deciso di servire Dio e da quel momento in poi questa mentalità o questa visione è stata entrata in me ossia questo desiderio di che sia servire Dio e che sia servire persone e in quale modo Flames serve Dio? in quale facendo i culti? come lavora in questo momento Flames? allora dal momento in cui tu stai obbedendo la sua volontà la sua parola di trasmettere il suo amore ad altri stai servendo Dio sei obbediente al Signore nel momento in cui tu stai facendo che il progetto di Dio sulla terra che è la chiesa Dio ha stabilito un progetto per gli uomini per l'umanità e quindi manda Gesù Gesù prima di morire sulla croce prima di salvare l'essere umano morendo sulla croce lui stabilisce la sua chiesa quindi lui ha istituito sulla terra la sua chiesa e lui ha detto io edificherò la mia chiesa sulla dichiarazione che Pietro aveva detto questo è in Matteo 16 e quindi Gesù ha detto io fonderò la mia chiesa io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades le porte dell'inferno di questo mondo spirituale soggiorno dei morti un luogo spirituale maligno dei morti quindi il soggiorno dei morti l'Hades l'inferno non potrà resistere la mia chiesa e quindi lui stava ora fondando la chiesa e quindi lui prepara 12 dei suoi vabbè che uno dopo non c'era più però lui ha preparato i suoi discepoli affinché loro di qualche modo potessero iniziare o fondare o dare proseguimento a ciò che lui stava già dichiarando di fare il suo progetto il progetto di Dio sulla terra che è la chiesa quindi nel momento in cui tu stai di qualche modo partecipando ad esempio se qualcuno in questo momento qua sta vedendo questa live e capisci questa questa questo podcast qua questa chiacchierata qua può essere utile per un qualcuno basta condividere questa questo programma questo progetto qua e di qualche modo sta collaborando affinché la chiesa possa avanzare quindi se tu fai una condivisione sto partendo proprio del minimo se tu fai una condivisione di un qualcosa dei social se tu fai una preghiera o per la chiesa in sé che Dio possa benedire proteggere strutturare usare i ministri del Signore usare il pastor Uese tu puoi pregare per la mia famiglia pregare per qualcuno stai collaborando affinché il progetto possa andare avanti ossia questo è servire a Dio e far sì che la volontà di Dio possa possa avanzare sulla terra è quello che noi siamo dei canali quindi quello che Dio ci dice di fare noi facciamo attraverso di noi attraverso di voi che ci state guardando Dio lavora e ci usa chi è la chiesa nel senso la chiesa è questo posto qua dove siamo noi sono le persone è una persona chi è la chiesa allora la parola chiesa ecclesia ha a che fare con un raduno di persone quindi non c'entra nulla proprio nulla con struttura fisica abbiamo per abitudine dire io vado in chiesa anche se il locale è chiuso io vado in chiesa anche noi utilizziamo a volte di un modo sbagliato questa parola qua tanti dicono c'è una bella chiesa in Duomo nel piazzale Duomo c'è una bella chiesa a Firenze però questo non è chiesa perché Gesù quando parla di fondare la sua chiesa lui sta parlando di di un raduno di persone che porterà qui sulla terra la cultura del suo regno e tanto lo è che lui dice e le porte dell'ades di questo mondo spirituale di questo mondo maligno non potrà resistere la mia chiesa quindi lui non sta parlando di pareti di mure sta parlando di persone che capiscono il potere l'autorità del regno di Dio e potrà di qualche modo invadere in questo mondo spirituale e riscattare persone che sono schiavi l'apostolo Paolo ad esempio ha detto in una sua lettera ai Corinzi ha scritto così che noi nonostante siamo qua come esseri umani noi abbiamo armi potenti in Dio per distruggere le fortezze quale fortezza o magari dipende dalla tradizione prigione quale prigione stava parlando Paolo o anche castello c'è qualche tradizione che parla castello quindi quale castello quale prigione quale fortezza stava parlando Paolo è questa forza nel mondo spirituale questa fortezza nel mondo spirituale è lo stesso che stava dicendo Gesù la Chiesa ha il potere o ha delle armi potenti in Dio per abbattere nel cuore delle persone la mente delle persone queste catene queste prigioni queste fortezze quindi la Chiesa è o la Chiesa è fatta di persone quando si radunano nel nome di Gesù tanto lo è che se tu vai in Africa abbiamo già aiutato tante persone in Africa abbiamo poggiato dei progetti di là che loro tante volte fanno dei culti e loro sono Chiesa dove è un'area aperta è un campo aperto senza struttura senza pareti senza niente quindi essere Chiesa non c'entra con la struttura fisica quindi possiamo dire che diciamo se noi un domani lasciamo questo locale vengono delle persone a fare dei raduni politici sarà un locale in cui si fanno dei raduni politici e se noi usciamo da qua e andiamo in un parco perché non abbiamo una struttura quella è la Chiesa la Chiesa sarà in quel parco perché noi formiamo la Chiesa quello sarà la Chiesa è fatta dalle persone sì 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 quindi questo è un locale di culto questo è un locale quindi noi siamo Chiesa e anche chi ci sta guardando è Chiesa quindi perché siamo noi che dipende che rappresentiamo perché se uno non frequenta una Chiesa non è collegato al corpo di Cristo in qualche in qualche zona se non è un pastore difficilmente sarà sarà una Chiesa tu puoi essere tempio del Spirito Santo perché se tu hai riconosciuto Gesù come il tuo Salvatore lo Spirito Santo dimorerà in te abiterà nel tuo Spirito e quindi tu sarai tempio del Spirito Santo però per essere Chiesa c'è bisogno di radunarsi essere un'assemblea e tu sarai chiamato ad andare fuori a trasmettere ciò che tu hai imparato in assemblea ok quindi chi non sta frequentando la Chiesa può essere che sia già tempio dello Spirito Santo però noi se non frequenti la Chiesa ti invitiamo a far parte della Chiesa di questo corpo perché siamo un corpo dove a Cologno-Monsese o dove siate più vicini se siete a Milano o Interland siamo qua via Raffaello Sanzio 34 Cologno-Monsese quindi se volete venire qua Raffaello Sanzio Cologno-Monsese siamo qua oppure se c'è un altro posto più vicino a casa vostra Dio è sempre unico però è importante che tu abbia un pastore se tu vuoi vuoi vivere una vita secondo la volontà di Dio tu hai bisogno di avere un pastore di avere una Chiesa dove congregare e far sì che questa congregazione che questa Chiesa possa avanzare quindi questa sarà la volontà di Dio come Eva mi ha domandato poco fa come noi serviamo Dio essendo Chiesa e portando avanti il progetto che Gesù ha iniziato Amen penso che già stiamo quasi per finire non so penso che abbiamo fatto un'oretta forse un peccato perché mi fa piacere di essere qua a cercare con te ci sarà ancora un terzo episodio e un quarto un quinto un sesto sicuramente saremo sempre qua col vostro aiuto seguiteci guardateci saremo sempre qua bisogna capire anche se chi ci sta ascoltando è contento di ascoltarci quindi come sapremo questo se tu cliccherai mi piace oppure un commento o almeno un commento perché se voi scrivete vai avanti pastori continuate noi continueremo noi continueremo ci fermeremo lo facciamo per Dio ovviamente ma anche per voi che ci seguite quindi è importante è importante che ci seguite che ci sia un feedback ovvio un ritorno per capire perché se no non fa senso essere qua certo però a me comunque anche a telecamere spente potrei parlare ore e ore con te quindi anche se senza telecamere possiamo farlo anche senza microfono bene penso che per oggi abbiamo finito oggi è per voi che ci state guardando lunedì e quindi ci vediamo sicuramente lunedì prossimo pastore cosa diciamo per chiudere saluti lei alle persone che ci stanno seguendo va bene vi saluto desidero a tutti voi che la grazia e la pace del Signore sia con ognuno di voi desidero a te una buona settimana che il Signore ti benedica e eccoci qua se hai bisogno di noi siamo qui a Cologno noi siamo la Flames Church dove noi vogliamo noi desideriamo che tu possa avere un'esperienza con il nostro Dio Dio ti benedica ci vediamo ci vediamo e se mettete mi piace adesso siete i coraggiosi fatecelo sapere che siete arrivati fino alla fine ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti